Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di VipReview Oggi vi voglio presentare un nuovo pezzo di Jimmy Shore dalla linea Disney Traditions direttamente da Pinocchio, la statua del nostro burattino gentilmente offerta da Enesco France Guardiamola nel dettaglio Con data di uscita 2015, questa statua segna il 75esimo anniversario del classico d'animazione Pinocchio Jimmy Shore celebra questo storico traguardo con una statua che risalta quel legame di amicizia tra il burattino e il suo amico di coscienza, il grillo parlante Le sbavature del colore e i chiari scuri della colorazione dell'intera statua rendono il pezzo uno dei miei preferiti Possiamo trovare le forme geometriche tipiche di Jim Shore nei capelli del burattino e nei suoi pantaloni, davanti e anche dietro Anche il grillo parlante emerge in maniera eccellente Ricco di dettagli e perfettamente proporzionato La base, semplice ma impattante, ha dei fiori color rosso fuoco che spiccano sul blu oltre mare Sotto troviamo il nome del pezzo e il suo codice EAN e quattro piedini antigraffio Su Enesco France troverete non soltanto tutta la linea Disney Traditions ma tantissimi altri prodotti che sono sicuro vi piaceranno Da Harry Potter a peluche ad articoli per la casa Per cui andate subito a darci un'occhiata Io vi saluto, vi ringrazio Spero che il nuovo video vi sia piaciuto Vi do appuntamento al prossimo Ciao Ciao